Da oggi, nelle Marche, i negozi potranno rimanere aperti dalle ore 6 alle ore 24. Lo ha stabilito il presidente Luca Ceriscioli, che nel pomeriggio di ieri ha firmato un decreto nel quale si precisa che l'apertura domenicale e festiva è libera. I sindaci, sentite le associazioni di categoria e tenendo conto dei dati sul Covid-19, possono limitare o implementare l'orario di apertura e di chiusura giornaliera. Nei 30 giorni antecedenti i saldi di fine stagione, che per il 2020 inizieranno il 1 agosto, è possibile effettuare le vendite promozionali in deroga alla legge, vista la sofferenza economica del settore del commercio. Il decreto, inoltre, stabilisce che da oggi sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive di interesse locale, svolti all'aperto e senza la presenza di pubblico, fatte salve le regole specifiche previste per gli sport di contatto. La Regione Marche poi dà il via libera a due persone non conviventi di viaggiare insieme sullo stesso scooter, a condizione che entrambe indossino un casco integrale o, in alternativa, una mascherina almeno chirurgica. Infine, è possibile salire sugli autoveicoli anche con chi non si convive, purché siano rispettate alcune norme e, in particolare, la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura, due persone al massimo per ciascuna fila di sedeli posteriori e l'obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.